Presidente Ricci, quest'anno non si farà il Matteotti, lei lo ha comunicato attraverso un comunicato stampa proprio poche ore fa ed è successo il finimondo, se così possiamo dire, sono arrivate telefonate da tutta Italia. Come mai questa decisione e se si è già pentito di tutto questo dopo le manifestazioni di affetto che sono arrivate in queste ultime ore? Sicuramente non mi sono pentito. La notizia io la potevo dare tranquillamente anche dieci giorni fa, ma per rispetto della Pescara Calcio di Daniele Sebastiani che è un carissimo amico, appassionato per lui di ciclismo, non volevo turbare una festa che abbiamo sentito tutti, compreso la città di Pescara, quindi compreso anch'io. E quindi ho atteso un momento più tranquillo per dare questa notizia, ma ormai io l'avevo già in mente di fare e l'ho fatta. Infatti abbiamo già fatto il comunicato alla USEI circa dieci giorni fa per cancellare la corsa quel giorno. Credo che si stanno scatenando in tutta Europa per prendersi quel 17 luglio di domenica che la Polonia, in primis, che ha bisogno e ha fame di ciclismo, sicuramente prenderà la Polonia quel giorno. Lei ha parlato di scarso interesse da parte delle istituzioni locali. Io devo ringraziare il Presidente della Regione d'Alfonso perché l'anno scorso ha fatto di tutto per far sì che il Matteotti non si fermasse già l'anno scorso. E l'abbiamo fatto, ci ha aiutato e ci ha aiutato in tutti i modi per farcelo fare, l'abbiamo fatto. Poi ho detto che non ci sono stati i presupposti per affrontare questo 69esimo trofeo Matteotti perché non potevo io garantire al 100% la spesa e quindi non ho avuto nessun colloquio positivo da parte delle istituzioni. Punto. Io non ho forzato nessuno.